Ciao a tutti di nuovo ragazzi e ragazzi Settembre 1000 è tornato più in fretta del solito E come possiamo vedere da questa schermata Oggi continuiamo Il let's play di New Super Mario Bros 2 Come secondo video di oggi Che è martedì quindi Continueremo New Super Mario Bros 2 per Nintendo 3DS Perché molti di voi me lo avevano chiesto Mi avevano chiesto anche di continuare Ratchet & Clank quindi ragazzi ve lo chiedo di nuovo Se volete che io continui Sia l'let's play di New Super Mario Bros 2 Che l'let's play di Ratchet & Clank Trilogy Che è abbastanza lunghino Siccome sono tre capitoli messi assieme Della saga Se voi volete io li continuo più che volentieri Sono tra i miei giochi preferiti Detta la nostra solita Noiosissima premessa Se vi ricordate Super Mario come avrei deciso di svolgerlo Ovvero sarei passato da Un castello all'altro O comunque da quando mi salvava il gioco Quindi in teoria il nostro obiettivo oggi È fare tutti i livelli Fino ad arrivare a questo castello Dobbiamo completarlo E sinceramente non so quanto ci metterò Perché questo livello qua È tremendamente tremendo E più che altro mi devo ripassare Un attimo i comandi Allora Mi ricordo una mazza Allora Ma che cacchio Ok allora buono lì Fantasma di me No Usiamo subito la piuma Usiamo subito No la piuma La foglia Vai Potenzia mi grazie Lo sapevo E da qua cosa esce? Vai alla grande Ok entriamo È un po' complicato Premere i tasti Premere i tasti Mentre Che cacchio è questo? Porca troia Porca troia Oh Ok ma allora posso fotterlo Se faccio tipo così Posso fotterlo? Cacchio fa Si avvicina? Scemo va che ti vedo eh Ci sono pure l'antisgamo Minchia guardalo Fa di quei numeri Bene abbiamo ricevuto una vita Extra Oh Non ti azzardare sai Merda Come si piglia quella? Sì Vai 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 Grande Mario Ah ok ma io devo farmi inseguire Se no non Va bene va bene va bene Va benissimo Ok Va bene non importa Non importa Cerco anche di collezionare Più monete possibili Eeeh La madonna Cos'è questo? No no Non fa per me Prendere queste cose Merda Merda Aiuto Aiutate Mamma mia Meno male Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Forse Perché ci sono 20.000 porte Ah no forse mi ricordo Infatti era qua la porta giusta Mamma mia che genio Il genio Dell'alta finanza E infatti Ok no va benissimo Questo era il livello forse più problematico No forse Sicuramente il livello più problematico Che avessimo mai fatto Quindi è stato bellissimo Finirlo subito Ora Il mondo 2 è sempre stato quello che più ho odiato Perché la sabbia Quelle robe la mi davano fastidio Ma quello che odio di più in assoluto È sicuramente il mondo acquatico Quindi Ok allora Sembra carino come livello Prendo questo No Oh che culo Mi serviva Grazie Ok C'è una piramide di Tutankhamon Che non so perché Checchio L'ha scalata Fermi tutti Ok niente Forse lì c'è un potere Sono sicuro Eccolo lì Vai col fiore Ecco Non l'ho preso manco una volta Allora Ok Molto bene Uh Ecco Uh Eh Tutto qua Ok Finito Ah proprio Mamma mia Mamma mia Che pro Ma se io mi butto Wow Ok Niente Non riuscirò mai a salire in cima A prendere una vita Ragazzi niente Non ce la farò mai Mai Ok Allora Due livelli fatti Ne mancano due Uno normale E il castello E siamo a cinque minuti Incredibile Forse lo sto completando A tempo da record Ce la possiamo fare Cioè Mi scappa lo starnuto Cioè la possiamo fare Allora No no Meno male va Meno male che fa Va a giro Non può scendere Vero Ah ricordavo bene Se li schiacci Minchia Eh vabbè No Scusate ma Se si può fare Non vorrei usarla Questa ma Oh fotti Allora vi rompo tutti Adesso Ok Si l'ho un po' No non l'ho proprio sprecata Diciamo che L'ho usata fin di bene Incredibile Ma non ci credo Questo chi è Ok Niente di grave Oh L'abbiamo finito in un minuto Incredibile Vabbè ragazzi Scusate se non ho parlato per un attimo Ho fatto solo Versetti a caso ma Incredibile Ok Siamo a quest'anno finale Ci segue anche il cubotto Quindi abbiamo uno strumento Non ricordo se abbiamo uno strumento O abbiamo il cubotto delle monete Comunque Lo prendiamo direi Ok abbiamo Oh no Praticamente ragazzi Questo mondo È un po' particolare Perché Perché Sto coso praticamente Ecco Infatti Ma tipo Non si può rompere No Oh Cacchio vuole Sto cosa Porca vacca Oh Eh sì Che scemo Che genio Se non lo faccio andare Eh no Spera ma Ah ok No ok Che genio Ecco appunto Sembrava strano Cazzo vuole questo Incredibile Ok Ok va benissimo Va benissimo Va benissimo Non c'è male Non c'è male Ce la stiamo facendo Merda Merda Ok Mamma mia Va 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 Che prova Che prova Che prova Ma quanto Sono incredibile Ecco ecco Visto Vaffan Ecco Proprio ora Che siamo arrivati Vabbè abbiamo ancora Una foglia Dalla nostra parte Dovremmo Dovremmo farcela Però Il mondo 2 Se non ricordo male È tremendo Questo No Il mondo 2 Il boss Non era Ah no È vero Questo è Ok Io non mi ricordo Come si fa Ok Forse è così Perché ragazzi C'ho paura Ok Fin qua Era tutto Molto chiaro No Mamma mia Olè Abbiamo vinto Guarda che chiave Guarda Prendi là Vai Mario Sì Ragazzi Ce l'abbiamo fatta In dieci minuti Niente male Davvero Niente male Bravi tutti Ok Abbiamo completato Anche il mondo 2 Ne restano solo Dunque Il 3 Il 4 Sono Mi pare Erano opzionali Cioè che devi scenderci Da giù Tipo Da Mario piccolo Mi pare Infatti Allora No 3 4 5 6 Allora Il mondo 7 Il mondo 8 Hanno il punto di domanda Nel senso che sono opzionali Ma ragazzi Io non mi ricordo un fico Qua finiva al 6 Vabbè Oh Quando ci arriveremo Comunque due mondi completati Siamo al mondo 3 Perché non salva Ah ok Molto bene ragazzi Il gioco mi ha detto di salvare Allora ragazzi Io chiudo qui anche questo video Come al solito Se vi è piaciuto Ditelo con un mi piace Un commento positivo Condividendolo dove volete Mettete mi piace se volete Anche alla pagina di Facebook Che vi metto come in ogni video In descrizione E se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi Da 7 9000 Stavolta è tutto Ci vediamo in prossimi video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi